Uno dei principali aggiornamenti del Mini 3 Pro rispetto al Mini 2 è la disponibilità delle tre modalità di volo intelligenti raggruppate sotto il nome Focus Track Spotlight, Point of Interest e Active Track Queste modalità sono molto potenti e combinandole sono possibili movimenti cinematografici di ogni tipo In questo video vi mostrerò come sfruttare al meglio Point of Interest Per accedere al Point of Interest disegniamo semplicemente un riquadro attorno al nostro obiettivo Apparirà una piccola finestra con le tre modalità di Focus Track Se scegliamo Point of Interest appare una freccia gialla dalla quale possiamo scegliere la direzione di volo Dopo aver toccato Go, il verivolo inizierà a ruotare attorno al nostro obiettivo nella direzione scelta Per alcuni secondi il software valuterà il target e la scena facendo i suoi calcoli Quindi il rettangolo attorno al bersaglio diventerà molto più piccolo A questo punto possiamo utilizzare le due levette del telecomando per salire o scendere di quota o per avvicinarci o allontanarci dal bersaglio Il che aggiunge molte potenzialità a questa modalità Una cosa che ho subito notato è che la rotazione è molto più lenta che in qualsiasi altro modello DJI anche se la impostiamo alla velocità massima È ovviamente possibile accelerare in post elaborazione ma se ci sono elementi in movimento come persone, automobili o onde l'effetto sarà poco reale Probabilmente è un piccolo errore nel software che sarà presto risolto con un aggiornamento Come si può vedere la procedura è estremamente veloce La tecnologia si mostra a un ritmo incredibile negli ultimi anni Ricordo ancora che con alcuni droni DJI solo pochi anni fa per selezionare un bersaglio dovevamo volarci sopra puntare la telecamera verso il basso e poi ritornare indietro per filmare Pre-istoria Quando si utilizza il point of interest è necessaria molta attenzione in quanto il Mini 3 Pro non ha sensori laterali per rilevamento ostacoli Il movimento rotatorio non dovrebbe portare il drone ad un angolo di 90 gradi e poiché il sensore anteriore e posteriore del Mini 3 hanno un angolo visivo relativamente ampio ho deciso di testare come si comporta in caso di ostacoli durante la rotazione Questo è il risultato Questa volta sono stato fortunato e il ragazzo ha avuto solo qualche graffio quindi vi consiglio di stare alla larga da ostacoli quando si usa point of interest Ruotare attorno a un punto di riferimento è un modo molto utile per rivelare una scena È particolarmente interessante quando ci sono più elementi su piani diversi creando così un effetto di parallasse in cui diversi strati si muovono più lentamente o più velocemente a secondo della loro distanza Utilizzando le lette del telecomando possiamo rendere le cose più interessanti Ad esempio diamo un'occhiata a questo paesino della costa orientale della Sicilia Una maniera semplice per mostrarlo è semplicemente avanzare verso di esso a velocità regolare Non c'è niente sbagliato ma in questo modo non sappiamo molto del contesto e dell'ambiente circostante Possiamo cambiare l'angolo di visuale e avanzare di nuovo verso il villaggio ma questa volta mostrando altri due paesini più lontani con due belle baie e alcune minuscole isole volcaniche Meglio Adesso utilizziamo Point of Intress nella maniera più semplice Ruotando semplicemente in senso anti-orario con il castello come bersaglio si rivela gradualmente l'intera scena aggiungendo un elemento di sorprese Possiamo rendere le cose più dinamiche aggiungendo altri movimenti con le due levette per rivelare la larghezza della baia In questo caso sto spingendo la levetta destra lateralmente per allontanarmi dal target e ampliare la visuale durante la rotazione Sto anche abbassando molto lentamente la quota per posizionare meglio gli altri paesini Con il Mini 3 è possibile utilizzare la rotellina sinistra del telecomando per applicare uno zoom progressivo fino al 200% mentre si utilizza Point of Intress Torniamo all'ultimo esempio Questa volta iniziamo con uno zoom del 200% sul castello normano del villaggio Quindi utilizziamo Point of Intress con lo stesso movimento di prima effettuato con le levette ma questa volta riduciamo lentamente lo zoom fino al 100% per rivelare la scena in maniera ancora più interessante Proviamo adesso il contrario Questa volta partiamo dalla vista normale al 100% per poi zoomare gradualmente sui paesini in lontananza fino al 200% L'effetto di parallassa è incrementato in quanto lo zoom comprime la distanza tra i villaggi che adesso sembrano più vicini tra loro Si noti che lo zoom del Mini 3 è digitale quindi ci sarà una notevole perdita di risoluzione ma questo non è un problema quando si filma in 4K e si codifica in 1080p Lo stesso effetto può essere eseguito in maniera più flessibile aggiungendo lo zoom durante la post elaborazione ma l'uso della rotellina rimane utile per gli utenti che non fanno editing su computer Quando utilizziamo le levette del telecomando con Point of Interest in alcuni casi possiamo effettuare alcuni movimenti che possono essere seguiti in maniera simile a con Spotlight Ho realizzato due video specifici sulle altre due modalità di volo intelligenti Spotlight e Active Track Troverete un link alla fine di questo video e nella descrizione qui sotto Questa è una scena con un eccellente parallasse poiché abbiamo il monastero in primo piano diversi villaggi, alcuni pendii e il mare a distanze diverse Utilizzando Spotlight dopo aver impostato la sommità del monastero come avversaglio mi sposo in diagonale per mantenere la fotocamera sul target mentre scendo di quota rivelando così i diversi strati sullo sfondo per un effetto interessante Proviamo lo stesso movimento utilizzando Point of Interest Come si può vedere i risultati sono simili ma con un aroma diverso Si può preferire l'uno o l'altro a secondo della situazione Come vedete con Point of Interest il movimento è leggermente più arrotondato Ho messo insieme una playlist con tutti i miei tutorial sui diversi aspetti del Mini 3 Pro non soltanto le altre modalità di volo intelligenti ma anche Master Shot, Quick Shot e molti altri Potete guardarli facendo click sul collegamento allo schermo e non dimenticate di premere il pulsante Mi Piace se trovate questo video interessante Il Mavic 2 Pro aveva una modalità intelligente chiamata Waypoint che era la preferita di molti utenti Permetteva di impostare due o tre punti per eseguire movimenti cinematografici complessi che non erano possibili in nessun'altra modalità Purtroppo Waypoint non è più disponibile ma utilizzando Point of Interest o Spotlight in combinazione con le due levette del telecomando siamo in grado di replicare quasi tutti i tipi di movimenti In questo esempio utilizzo Point of Interest con la telecamera verso il basso con il drone quasi sopra il bersaglio quindi scendo di quota con la levetta sinistra per combinare due famose mosse hollywoodiane lo screwdriver e il crane il cacciavite e la gru per un effetto reveal molto interessante Come le altre due modalità di focus track Point of Interest è in grado di seguire un target Ma nella stragrande maggioranza delle situazioni i migliori strumenti per il tracking sono Spotlight e Attic Track Per quanto riguarda tracking Point of Interest può essere utile per ruotare a distanza ravvicinata attorno a qualcuno che cammina a passo lento magari per un clip musicale per un discorso o un dialogo tra due persone Come si può vedere adesso Point of Interest funziona anche a distanza molto ravvicinata e anche a mezzo metro dal suolo il che lo rende perfetto per questo tipo di situazioni La possibilità di riprendere filmati e foto in formato verticale è uno dei maggiori punti di forza del Mini 3 Pro Il formato verticale può essere utilizzato con Point of Interest e questa è un'ottima notizia per gli utenti coinvolti in piattaforme di social media come Instagram, TikTok o gli short di YouTube Basta mettere la fotocamera in formato verticale prima di scegliere il nostro target Cliccate su questi link per guardare i miei video sulle altre modalità di volo intelligenti del Mini 2 Non dimenticate di premere il pulsante Mi Piace se avete trovato questo video interessante Grazie